ciao ragazze ciao ragazzi buon pomeriggio bentornati e benvenuti sul mio canale oggi parliamo di profumo vi faccio la recensione su un profumo che ho acquistato recentemente che vi ho mostrato in un video magari ve lo metto da qualche parte sugli ultimi acquisti che ho fatto da da francis e quando vi ho mostrato questo profumo qui che appunto il profumo giardino de sensi alla vaniglia la mia amica antonella ciao anton un bacio mi ha chiesto di fare una recensione non mi ritengo assolutamente un'esperta di profumi ma credo che per questa tipologia non non occorre insomma un gran sapere per cui la faccio con con molta tranquillità anche perché da quando l'ho acquistato lo utilizzo veramente tutti i giorni e quindi posso realmente dirvi come mi trovo e mi trovo veramente bene punto primo il prezzo c'è economico lo costo meno di 3 euro e quindi siamo anche lì con lì come prezzo con tesori d'oriente molto simile anche il pack come vedete si presenta in formati da 100 ml boccettina a spray facilmente portabile anche in in borsa e quindi anche in questo potrebbe somigliare ai tesori d'oriente tesori d'oriente fa una pasta a gramma di fragranze queste ho visto che ce ne sono alcune e una che mi ha incuriosito tanto e che voglio andare assolutamente a prendere quella all'iris ma tornando a questo si chiama appunto essenziale vaniglia per cui contiene essenzialmente solo delle note di vaniglia è una vaniglia per quanto mi riguarda leggermente speziata quindi a me risulta veramente gradevole anche nella stagione calda per cui riesco a metterlo tranquillamente anche nelle giornate di caldo magari altre persone quando appunto fa molto caldo forse risulterebbe leggermente stucchevole però per quanto mi riguarda che amo i profumi così dolci devo dire che non mi dà assolutamente fastidio ha una buona persistenza perché si tira tranquillamente quelle sei ore tranquillamente cioè io lo metto se lo metto la mattina a ora di pranzo primo pomeriggio lo sento ancora come se lo avessi appena spruzzato per cui questa è veramente una cosa positiva cos'altro dirvi? allora leggo qui che contiene appunto delle note speziate e afrodisiache in una versione sobria e raffinata in effetti si si presenta veramente elegante un classico rivisitato in chiave a buon tonno per una donna elegante che ama sognare per cui amiche sognatrici insomma potete provare tranquillamente questo brand giardino dei sensi alla vaniglia quindi non ho altro da aggiungere perché ripeto contiene soltanto vaniglia vi ho detto che è economico, vi ho detto che persiste, vi ho detto che è veramente top, dolce come perfumazione per cui se lo conoscete e credo proprio di sì perché comunque è venduto in tantissimi posti nonostante io l'ho acquistato da Francis ed è la prima volta, fu la prima volta che trovai questo brand quindi per me è una novità ma su youtube ne ho visto già parlare tanto di questo brand e quindi sicuramente tante di voi lo conoscete anzi fatemi sapere se bene o male la pensate come me su questa vaniglia o se mi consigliate anche da provare altre fragranze io sono ben accetta, cioè accetto tranquillamente i vostri consigli quindi questa è la recensione del profumo essenziale vaniglia giardino dei sensi io colgo l'occasione per ringraziare tutti i nuovi iscritti grazie per il supporto, per seguirmi nei video quindi vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo al prossimo video ciao